Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Oggi iniziamo a giocare con Butterfly 5. Fino ad ora nel canale avevo solo costato Warzone, 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 la pronuncia storpiata che appunto chi segue il canale io ho spesso fono, soprattutto con i giocatori di PS. E appunto avevo postato solo quel video, alcuni video mi sembrano due o tre, su i games di guerra, perché io davo più precedenza perché piacciono di più i video di avventura o i video di sport. Però mi hanno parlato molto di questo Butterfly e quindi bisogna un attimo di un programma. Oggi faremo appunto il primo episodio di ambientazione, che abbiamo comprato l'audio molto alto forse, di ambientazione per capire di cosa si tratta, quindi sarà un video di 10 minuti, qualcosa per capire di che cosa si tratta. Dopodiché appunto valuteremo se fare una serie o quello, o fare un qualche episodio che scopriamo la storia. Io, a dire meno di Butterfly, avevo già giocato al numero uno, quello della prima guerra mondiale, non ho postato il suo video perché all'epoca il canale non esisteva ancora, però non facciamo maggior da niente, gioca e facciamo storie di guerra, il giocatore si, la nazione chiama, gioca, la felicità, allora la difficoltà mettiamola facile, poi così, non avendoci mai giocato, non voglio, voglio cercare di andare avanti per capire un po' quali sono i vari ambienti e tutto. Eccolo, mi sto zitto e vediamoci il programma. Il mondo molto appagino, però, e nel silenzio dimindiciamo tutto. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Best hour, lesser nature has let it stray into shadow. Grafica, direi, è ottima. Ah, direi è vero che ci sono anche gli occhi forse che hanno una grafica un po' il migliore, però. Storia è bella e direi che questo è un gioco da tenere in considerazione, magari per farci una serie. Ragazzi, lo so, magari in te lo dite, ma quante serie fa questa? E' un po' che si possa fare, è la tua mia risposta a chi potrebbe nel commento inserire questa cosa. Norvegia, quindi siamo in Norvegia, nel 1940, inizio della seconda guerra mondiale, che ti ho visto, no? Dichiarazione di guerra, la Germania, a parte di Inghilterra del 39, inizia un anno, un po' più, non so che periodo è. In cucina notturna a parte di Nank. Inizia un anno, inizia un anno, inizia un anno. Inizia un anno, 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 inizia un anno Andiamo! Oh, bugger! Ma comunque, ma per i miei. Addio, 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 addio. Poi andiamo indietro, peggio. Addio. Scendi, preparati. Mantieni di basso. Guardati. 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 Oh cheeser, ragazzi. E un cheeser. No, 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 no. Ma che è qui? Ok. Yikes. Guarda, non si è capito che si fa. Vai, cercavo di prendere stile. Ciao. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard Grazie a tutti. 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 Wow. Yeah. 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 e direi diciamo di chiudere questo primo questo primo video storia sta continuando grazie lasciate un commento se ovviamente utile magari dicendo se vi può interessare vedere tutte le altre varie fasi in questo gioco di quelle che sono le varie storie piccola critica ci sono alcuni giochi che hanno una grafica forse un pochino quindi la storia comunque la storia di guerra e quindi magari personaggi e sono curioso di vedere probabilmente fra un altro video su questa di vedere appunto com'è l'online grazie io direi su diciamo il fondo dell'esempio io vi diciamo direi di chiudere qui questo primo video su butterfile 5 se vi piace mettete un like e un pollice all'insù al video e lasciate qualche commento che ho avuto impressioni su questo video vi invito a scrivervi al canale come faccio sempre all'inizio alla fine di ogni video e cliccate sulla campanellina in maniera tali chiesto di che avvisate come lo sia quando il sottoscritto caricherà ragazzi io vi faccio un saluto e al prossimo ciao